Ciao, ancora una volta insieme per i Semi di Tao. Il Semi di Tao di quest'oggi parla dell'autostima. L'autostima, proprio come Atena, che è sicura di sé, riesce addirittura a cavalcare il leone. L'autostima è lo spazio dal quale si vive la vita, è lo spazio dal quale possono sorgere le azioni o dal quale non si fa niente quando l'autostima è carente. L'autostima, quindi, è una terra. Infatti, l'elemento terra, che dà vita alla milza, è l'elemento che si riconduce all'autostima. L'autostima, quindi, assiede nella milza. Nella milza, la virtù riconosciuta dalla medicina tradizionale cinese, è la fiducia. La fiducia è la fiducia che ogni cosa sia perfetta, ogni cosa intorno, ogni cosa nella vita, ma soprattutto che se stessi si sia perfetti. Quindi, dalla tua perfezione, vivi la tua vita oggi. Lascia un commento qui sotto su questa cosa che hai sentito. Io ti auguro buona vita e buon tavolo. La fiducia è la fiducia. La fiducia è la fiducia. Grazie a tutti.